Con il presidente Pasquale Di Meglio dell'Actus Tragicus e il segretario Giovanni Calise per parlare un po' di questa iniziativa che avverrà tra qualche giorno San Martino Festa Amore e Vino. Sì, quest'anno riproponiamo questa festa per la terza volta, è una festa di solidarietà che abbiamo già fatto altre volte e sono diverse attività che si sono comunque proposte e lo fanno ovviamente a titolo gratuito proprio per dare poi in beneficenza il ricavato di questa manifestazione. Ecco, raccontateci un po' come si svolgerà. Beh, questa festa come abbiamo detto è allo spirito della solidarietà, è nata nel 2017 proprio per aiutare i terremotati che furono colpiti al terremoto di Sola Dischia e l'abbiamo riproposta anche quest'anno per la terza edizione. Si svolgerà lungo il corso, ormai abbiamo visto che è un format che è abbastanza consolidato e che funziona, quindi da partire dalla piazza San Gaetano fino al Cinema delle Vittorie, ci saranno una decina di stand dell'agra di gastronomia con varie pietanze tra primi e secondi e con un ticket unico di 12 euro si potrà aver diritto a un primo, un secondo e a un dolce. Sono, come vi ho detto, varie attività locali appunto anche presenti sul corso di Forio che hanno sposato questo nostro progetto anche negli anni precedenti e quindi prepareranno dei primi e dei secondi in base alle loro disponibilità che potranno, danno appunto un titolo gratuito e tutto quello che noi richiamiamo lo daremo in beneficenza. Ecco, e non sarà solo cibo ma anche tanto a musica e divertimento? Sì, ci sarà anche appunto un po' di intrattenimento musicale con dei gruppi provenienti dalla terraferma, dall'Irpinia e dal Salento, dal Gargano, che intratterranno appunto con la musica popolare tradizionale appunto della nostra terra dell'Italia, del sud Italia in particolare e ci introdurranno anche un po' a Natale perché ci sarà un gruppo di zampogne che appunto ci iniziano a fare spiegare un po' quest'area natalizia. I gruppi sono quattro e sono le zampogne di tutto altro canto, appunto questi gruppi di zampognari, poi abbiamo i virtuosi da Tarantella, un gruppo sempre di musica popolare che viene dall'Irpinia, un altro gruppo appunto di ricerche etnomusicali irpine e poi ci sono queste mulies garganiche che è un gruppo di donne, infatti noi vogliamo allargare questa cosa anche e soprattutto alle donne che sono sempre molto importanti nella vita. Ecco allora Presidente, diamo appuntamento? A domenica 5 novembre e voglio cogliere l'occasione per dire anche che questo evento è stato fortemente voluto dall'amministrazione, quindi in particolar modo l'assessore Nino Savio e ringrazio il sindaco che anche si è adoperato su questa iniziativa.